Piattaforma Solidale nasce nel 2017 con l'intenzione di venire incontro a chi vive un disagio sociale. Quindi un intervento ad ampio raggio che parte dalle persone anziane per arrivare anche ai disabili, a chi ha difficoltà economiche, a dare concretezza a tre principi sui quali basiamo il nostro essere, cioè quello della solidarietà, dell'accessibilità e dell'inclusione, ma tutti i concetti visti ad ampio raggio, perché senza solidarietà non si possono affrontare le altre problematiche perché chi non ha uno spirito solidale non potrà mai occuparsi concretamente né di accessibilità né di inclusione. Quando andiamo a parlare ad esempio di accessibilità non ci fermiamo solo all'accessibilità che riguarda le barriere architettoniche, ma spesso e volentieri manca un'accessibilità economica alle persone per potersi sentire inclusi nella società. Quando parliamo di inclusione, anche lì parliamo di un'inclusione in senso ampio. Esempi importanti di inclusione sono quelli dell'attività lavorativa, che riguarda anche qui non solo disabili, ma anche di chi esce ad esempio in tardità dal mondo del lavoro, che non ha un futuro. Quanto riguarda i disabili, altro esempio concreto di inclusione è quello delle attività sportive, che sono fondamentali per far emergere le abilità di questi soggetti e ridare fiducia al loro essere uomini come gli altri. L'esempio concreto che abbiamo definito in questi ultimi mesi è quello dell'accordo con ADS Futura e il Pentaclon Moderno, la federazione nazionale, attraverso il quale abbiamo andato a obitare un progetto che ci ha portato a collaborare con tutti gli istituti comprensivi di Pesaro per arrivare a favorire l'inclusione sportiva dei ragazzi, dei ragazzi dalle elementari alle medie. Grazie. Grazie. Grazie.